E' scattata questa mattina la fiera di Ferrara, la campagna vaccinale prioritaria riservata alle forze di polizia territoriali, decisa la settimana scorsa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del Capologo Estense. L'adesione è volontaria ed è già stata fornita da circa l'80% dei 1.300 fra agenti, anche di polizia penitenziaria, carabinieri, finanzieri, guardia costiera e vigili del fuoco in servizio nel Ferrarese. Fra le prime dosi, quelle somministrate al questore Cesare Capocasa e al prefetto Michele Campanaro. Un obbligo morale ed un dovere civico al tempo stesso. Il comparto sicurezza è stato sin dall'inizio dell'emergenza pandemia un anno fa in prima linea ed è importante che anche la regione Emilia Romagna abbia di fatto dimostrato l'attenzione e la sensibilità verso questo comparto che è inserito in un percorso prioritario di vaccinazione. Alla fiera di Ferrara continueranno a vaccinarsi con percorsi separati anche anziani e personale scolastico. Nelle due settimane della campagna saranno un centinaio al giorno le dosi riservate alle forze dell'ordine dall'azienda sanitaria locale che ha attrezzato anche un altro hub per l'arma dei carabinieri inaugurato oggi a Cento. Si parla di persone che sono a contatto quotidianamente sulla strada a svolgere il loro lavoro e quindi diventa anche importante poter dare una copertura e iniziare a fare questo tipo di percorso anche con le forze dell'ordine.